Il fucile lenza è un'arma che spara un proiettile adesivo. Un cavo collega l'arma al proiettile, in modo da usarlo per trainare i bersagli. È molto resistente, tra l'altro. Può reggere diverse decine di chili. Usalo per assicurare un carico a distanza. Anche sotto il naso di un mulo, perché no? Ma sei un tipo sveglio, perciò... sono sicura che troverai altri modi per usarlo. L'unico limite è la tua creatività. L'e introductions progettiformi v warming. L'hanno instantly sentita.